Il regno del kebab, piazzetta Perna 7-8, via Carducci, angolo via Piave, chiuso il martedì. In città la differenziata è partita con il botto. A via Leprino, tra Neone e Mazzini e Contrata Quattrograna, a terra, ai piedi di una montagna di rifiuti, sono evidenti i resti dei fuochi d'artificio accesi per accogliere la notte di San Silvestro. Il ricettacolo giace a ridosso degli alloggi popolari e dei campi di calcetto. Esplosiva situazione di degrado anche di fronte a Parco Castagno. Vicino alla fermata dei mezzi pubblici, un'area da tempo segnalata alle autorità, presa di mira da furbetti abusivi che scaricano, tra l'altro, anche materiale di risulta di cantiere e scarti di lavorazione di frutta secca. Differenziate in Tilt non solo in periferia. Basta vedere anche alcune strade del centro città sepolte da sacchetti contenenti immondizia o rifiuti scaricati sui marciapiedi. Vetro, plastica, indumenti, pezzi da officina meccanica e soprattutto cumuli di pesce avanzato durante il cenone dell'ultimo dell'anno a Via Piave, nel parcheggio antistante dell'edificio che ospitava la scuola Dante Alighieri e a Via Volpe, nei pressi della sede della Cigelle, a Via Fontanatetta, a pochi metri dalla stazione ferroviaria. I rifiuti sono stati scaricati anche tra i noccelletti e il ridosso delle abitazioni, provocando la rabbia dei residenti. Ma una cosa, proprio da quando ero una cosa assaggerò, una cosa, io una da passare, riuscite una cosa, io voglio la, voglio la, voglio la, a fare una colazione, uno mi ha dato la passare. Questa montagna di immondizia, dici, da dove? Niente, una alla condizione. Ah, ho capito, ma qua ci sta di tutto, abbiamo visto, le canne fumarie. Eh? Ci sta di tutto, dico così. Ma però, vedete, ma non vuoi, come si sa da farlo. Ma che ci vogliono le telecamere, i vigili? Ma ci vogliono, non vuole, non vuole. La civiltà, che è, a buona educazione. Non puoi che, e, 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 che? Non puoi che io l'ondoro, non puoi che, e, questi come fanno schifo qua, fanno schifo pure l'intera cosa, parlano, ho dispetto. E' vero? Ma tu fai la differenziata, si. Come io? No, no, eh beh, ho chiesto, si. Io, anzi, non buttò niente, guardate ne poco quant'è. Ti hanno buttato la roba pure sotto caso. Sì, sì, vedete ne poco, che roba è, qua a dire, una monnetta, vedete ne poco pure quant'è. Il cassonetto di velto. Io quando ero già pulito, quando ero già pulito i genoceli, devo pulire, devo fare tutto quello che sta da. Ha buttato i rifiuti tra i noccioli? Eh, eh, sono quattro mesi quando ero, ero prima di agosto, e quando ero, e quando ero, ah, già ho perso 10, buono 15 chilenoci, la chi mi paghe.